Musica Calabria e Sicilia insieme per il Ponte sullo Stretto, l'intesa tra i due presidenti Nello Musmeci e Roberto Chiuto che assicurano le risorse per la realizzazione dell'infrastruttura ci saranno e il governatore calabresi a precisarlo in quanto, come è noto, l'opera non è stata finanziata nel documento economico e finanziario del governo. Una non notizia, spiega Roberto Chiuto, aggiungendo, si sapeva che nel DEF le risorse non ci sarebbero state per questa grande infrastruttura e allora dove trovare i finanziamenti? Chiuto lo spiega in una intervista rilasciata a Radio 24. Si tratta, sottolinea, di risorse da reperire in legge di bilancio e poi attraverso il confronto con l'Europa. Ma, ed è qui il passaggio che riguarda la Calabria e la Sicilia, c'è la disponibilità delle due regioni più immediatamente interessate a partecipare al finanziamento di quest'opera pubblica. Insomma, la volontà di realizzare il ponte non si discute. Bisogna, conclude il Presidente, individuare le forme di finanziamento comunitarie e italiane attraverso l'Europa. Spiega, infine, ci sono risorse importanti. Si tratta di riprogrammarle nella direzione di investire in quest'opera strategica per il nostro Paese. Queste immagini potrebbero diventare presto solo un brutto ricordo, almeno è quanto assicura il commissario di Arrica al Bruno Gualtieri, che fa il punto sulla gestione dei rifiuti a livello regionale, a margine della presentazione alla cittadella Cadanzaro del piano d'ambito territoriale ottimale dell'area centrale della Calabria. Dopo anni e anni di criticità, dunque, secondo Gualtieri, il peggio è alle spalle. Ritengo che da quest'estate il problema dei rifiuti debba essere messo un po' da parte, insomma, ecco, cioè usciamo veramente dalla criticità e gli impianti pubblici sono in corso, anche le discariche di appoggio al sistema pure, per cui ritengo che il peggio è passato. Ecco, dovremmo vedere una stagione nuova. Ma veniamo al piano d'ambito dell'area centrale, Cadanzaro, Crotone e Vibo Valencia, il primo a vedere la luce. Provati il piano d'ambito propedeutico, andremo a individuare sul mercato il gestore unico, che si interessa e dalla bollettazione alla raccolta dei rifiuti, conferimento, trasporto, trattamento, valorizzazione e discarica degli scarti. Quindi l'intero segmento viene dato a un gestore unico per l'area centrale. Poi avremo un altro gestore unico per l'area nord e un altro per l'area sud. Ma qual è la situazione nelle altre province? Diciamo che Reggio e Cosenza devono integrare i dati che abbiamo più volte chiesto e speriamo dopo questa esperienza positiva che ci daranno una mano a completare il loro piano d'ambito. Rispondendo alle domande dei giornalisti, i Gualtieri rivela inoltre che finora sono 230 i comuni della Calabria che hanno aderito ad Ardical. Si sofferma poi sul termo valorizzatore di Gioia Tauro. L'ammodernamento a che cosa serve? Non a portare i rifiuti tal quale, ma solo la parte non recuperabile, non riutilizzabile va ad essere valorizzata. Quindi è il segmento prima della discarica. Quindi anziché andare a buttare in discarica quella componente non più utilizzabile va ad essere termo valorizzata. Se fossero finiti in mare avrebbero causato ingenti danni all'ecosistema marino. Parliamo di ben 87.000 litri di rifiuti liquidi contaminati da idrocarburi, sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, stieme a personale specializzato della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Rifiuti che sono stati intercettati e cautelati nell'impianto del locale depuratore, un intervento che, grazie anche al contributo e alle precauzioni adottate dal gestore del depuratore, ha evitato dunque lo sversamento in mare delle pericolose sostanze e quindi un disastro ambientale. L'operazione delle fiamme gialle della Capitaneria di Porto si inserisce in un'attività di presidio realizzato a tutela del territorio proprio per prevenire e fronteggiare ogni comportamento non rispettoso delle procedure legali di smaltimento dei rifiuti. Gli incendi sono una piaga nella nostra regione alla vigilia della stagione calda. Da parte la campagna di prevenzione, dalla cittadella di Catanzaro fanno sapere che sarà tolleranza zero. Intanto in un reel, sui social, l'assessore Gianluca Gallo e il presidente Roberto Chiuto consegnano agli operai forestali i nuovi mezzi. Questi nuovi moduli di incendio sono naturalmente di ultima generazione e soprattutto hanno un modulo di attrazione che può essere recuperata molto più facilmente rispetto al passato e soprattutto può essere utilizzata in maniera diversa perché viene nebulizzata e quindi si farà un grande lavoro soprattutto i nostri operai che sono bravi faranno tanto tanto soprattutto nella lotta attiva all'incendio ma faranno anche tanto altro. Quindi saranno molto utili nella campagna di incendi e poi sono contento perché è giusto che gli operai forestali abbiano attrezzature moderne per una forestazione all'avanguardia. Sono delle macchine straordinarie, speriamo bene, speriamo bene, viva la Calabria! Del lungomare la roccia ferita è ben visibile, siamo a Stallucido sul Tirreno Cosentino, uno studio inviato al Comune da Rete Ferroviaria Italiana ne evidenzia la pericolosità dei massi sono già caduti e il movimento franoso minaccia la ferrovia e ben 17 abitazioni per le quali è già stata emanata un'ordinanza di sgombero. Quanto occorre per mettere in sicurezza il territorio? Con i tecnici della regione della protezione civile delle ferrovie stesse si è stimato circa 8 milioni e mezzo l'intervento e quindi diciamo che è un costo che il Comune non può sostenere. Sulla tradizionale passeggiata la panoramica nel centro storico di Stallucido è visibile l'avallamento della strada provocata dalla frana. I tecnici della protezione civile parlano di una frana in movimento e questa è proprio sulla strada ferrata e poi c'è la caduta dei massi che invece incompe sulle abitazioni sottostante sul lungomare quindi il rischio è che ove dovesse succedere qualcosa e ci auguriamo di no tutto ciò che sottostà a questo costone diventa veramente in pericolo, insomma rimane in pericolo. E all'Armerosso il primo cittadino lancia l'appello e chiede aiuto alla regione. Con la regione così come con gli altri enti abbiamo un'interlocuzione continua. Io mi auguro adesso che ci possa essere un intervento risolutivo e che si possa guardare avanti con più fiducia anche perché in questo momento siamo alla vigilia della stagione estiva e Stallucido registra la presenza di tantissime persone, di tantissimi turisti e quindi non vogliamo che questo sia da documento per la stagione stessa e per i turisti che vengono a Stallucido. Un centro storico all'interno del quale è difficile circolare e a cui è complicato anche accedere. Le frane, anche i crolli, i cittadini sono stanchi. Nei giorni scorsi hanno fatto sentire la loro voce dopo la chiusura di un'altra strada a seguito di uno smottamento che ha reso ancora più difficile la circolazione. Gli interventi che i residenti nella zona antica della città chiedono potrebbero ora però arrivare a garantirlo e il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al termine di un incontro con i residenti Caruso li ha ascoltati e ha garantito interventi immediati. L'ultima frana del 7 aprile che è quella della fontana dei 13 canali sarà messa in sicurezza nel giro di 7-10 giorni. Abbiamo già attivato la procedura Rendes per ottenere il finanziamento per dare sistemazione definitiva anche a questa frana. Il 6 aprile abbiamo affidato i lavori per quanto riguarda l'intervento sulla strada di via Petrarca chiusa ormai da anni, anzi limitata al traffico da più anni con i semafori e a breve partiranno i lavori. Abbiamo finito le procedure di gara per l'appalto dei 6.950.000 euro l'appalto più grosso che interesserà anche e soprattutto via il corso Vittorio Emanuele quindi la riapertura di quella strada, la messa in sicurezza di tutto quel costone, il rifacimento del muro di sostegno vicino alla chiesa di Santa Maria del Conservatorio abbiamo fatto in un anno quello che non si è fatto in 12 anni. I problemi del centro storico di Cosenza però non si risolvono certo con questi lavori. Lo stesso primo cittadino ha specificato che l'amministrazione comunale non può intervenire sul privato e ha chiesto un intervento alla Regione. Abbiamo avviato pure questa interlocuzione con la Regione, ho chiesto alla Regione di intervenire perché purtroppo noi non abbiamo competenze sugli immobili privati per cui ci sono molti crolli nel centro storico. Noi interveniamo per garantire la sicurezza sulla viabilità ma per questi altri interventi, se non c'è l'aiuto della Regione noi non potremo dare soluzione ad una situazione che porta alla distruzione di uno dei centri storici più belli d'Italia. La montagna di denaro che arriverà attraverso i fondi del PNRR deve rappresentare un'occasione irripetibile per la crescita e lo sviluppo della Calabria ma c'è un punto interrogativo grande quanto una casa. I comuni saranno in grado di utilizzare i fondi messi a disposizione dall'Europa? Il Presidente alla Regione un po' di preoccupazione la nutre. Molte delle risorse sono al massimo veicolate alla Regione ma poi vanno direttamente ai comuni. Non è una novità che nella nostra Regione ci siano moltissimi comuni in dissesto e in predissesto che non hanno nemmeno l'ingegnere capo a volte non hanno nemmeno il segretario generale perché è il segretario comunale per cui è difficile che abbiano una struttura organizzativa tale da poter adempiere e con sollecitudine agli impegni del PNRR. Il Presidente resta però fiducioso perché la Calabria non può consentirsi l'urso di farsi sfuggire questa grande opportunità ma è necessario che i fondi non finiscano in mani sbagliate e così la Regione e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto proprio questa mattina alla Cittadella un protocollo d'intesa finalizzato a migliorare i controlli e a contrastare le infiltrazioni criminali. Io sono molto contento che più livelli istituzionali lavorino nella direzione di assicurare che le risorse pubbliche siano destinate davvero allo sviluppo della Regione e vadano a beneficio dei cittadini e non siano distratte a fini illeciti. Abbiamo già stipulato tempo fa un altro protocollo simile che aveva per oggetto però le risorse dei fondi strutturali. C'è la necessità di intervenire anche sulle risorse del PNRR soprattutto ora che deve iniziare con sollecitudine la fase della realizzazione delle opere. Il protocollo d'intesa dunque pone in rilievo un raccordo informativo finalizzato alla comunicazione di informazioni e notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi. Possiamo in questo momento fare ipotesi su quella che è l'esperienza dei piedi di altri fondi quindi il corretto utilizzo, i soggetti che utilizzano i fondi, la titolarità a poterlo fare, la realizzazione dell'opera. Non dimentichiamo che molto spesso questi fondi arrivano sia al destinatario ma l'opera non sempre viene realizzata. Sindacati Confindustria, il mondo della ricerca e della scuola confronto arrende costruire opportunità di futuro, frenare l'immigrazione dei giovani che si formano in Calabria e poi il lavoro lo trovano altrove e la sfida da vincere. L'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la CISL insiste sulle competenze che consentirebbero occupazione e svela i dati di uno studio. Abbiamo una larga fetta, quasi 500.000 addetti nella pubblica amministrazione che hanno superato i 62 anni di età. Fra pochi anni andranno in pensione. Che senso ha assumere personale a tempo determinato quando la durata del PNRR, che è categorica, dura almeno al 2026? E allora se si dà garanzia occupazionale a questi giovani e soprattutto si premiano le competenze, allora noi possiamo fare un buon lavoro. Abbiamo voluto aprire anche un confronto con la parte datoriale perché insieme dobbiamo fare fronte comune. Domani a Palazzo Chigi ci sarà un incontro con il Ministro Fitto proprio sul processo di manutenzione del piano nato nel 2019 in condizioni completamente diverse. Va manutenzionato rispetto ad alcune opzioni strategiche che vengono proposte nell'ultimo decreto del governo e su cui ci siamo confrontati recentemente. Una di queste è ovviamente riportare all'interno del piano oltre alle sei missioni la sfida del Repower You, vale a dire la sfida del riallineamento dei costi energetici nel nostro paese che hanno avuto un'escalation particolarmente preoccupante e che rischiano di non far centrare gli obiettivi al piano e di non far ripartire la crescita e lo sviluppo. E poi abbiamo un grosso fardello in Italia che è quello che non si riesce a spendere con ritmi adeguati le risorse dei fondi di coesione. A due passi dal centro di Civita, proprio dinnanzi al canyon del Raganello, si trova l'opificio della famiglia Filardi che fu attivo dal 1906 al 1979. Era azionato ad acqua da macchinari di fabbricazione tedesca che consentivano di cardare e filare la lana proveniente dalle greggi di tutta la zona. Nel 2010 la struttura è stata ristrutturata e trasformata in un ecomuseo di archeologia industriale a cui le immagini si riferiscono. Attualmente chiusa al pubblico, il prossimo 22 aprile verrà riconsegnata al Comune. Ci sarà la consegna da parte del commissario delle comunità montane a seguito di regolare accordo sottoscritto con il Comune di Civita dell'antica Filanda Filardi. È un'azione finalizzata ad un recupero di un'antica tradizione artigianale che a Civita, attraverso l'impegno della famiglia Filardi, aveva avuto ampio sviluppo nel corso dei secoli passati e credo che questa azione sia finalizzata innanzitutto ad un recupero culturale di un ricordo, di un'attività imprenditoriale ed artigianale importante. Sam oggi è un pastificio ed è al tempo stesso un acronimo ovvero le iniziali di Sadia, Adama e Madi perché loro sono i senegalesi Sadia Diabì e Adama Traorè e livorense Madi Minugoi. Sam è anche storia di un percorso di integrazione perché anche loro sono arrivati in Italia cinque anni fa a bordo dei barconi, al culmine di un viaggio che loro stessi ricordano con terrore. Veramente è stata un'esperienza bruttissima per me però sono venuto per, non è che la fame ma solo per cambiare la vita, per avere una migliore vita. Penso che pure io in questo momento non posso dire che posso fare questo viaggio ancora. In quel momento l'obiettivo è di avere un futuro migliore come tutti quanti, quindi non era una cosa più particolare ma era per avere un futuro rispetto a quello che avevo là sicuramente. Il viaggio proprio non mi ricordo esattamente proprio quanto ho pagato però più o meno mi lega la cosa. Questi tre ragazzi sono riusciti a farcela una prima volta nel viaggio e poi una seconda. Sono stati infatti ospiti per due anni del sistema di accoglienza e integrazione di Rogliano Casa Ismaele. a conclusione del percorso la possibilità attraverso il progetto fare sistema oltre all'accoglienza di creare un'azienda. Nasce così a Mangone in provincia di Cosenza il pastificio Sam. Prima ho fatto scuola, prima di tutto per capire la lingua perché questo è importante e dopo abbiamo iniziato a fare questo corso la pasta. È stato duro però ora stiamo riprendendo veramente. All'inizio non è stato facile, abbiamo avuto qualche difficoltà ma poi diciamo che adesso stiamo veramente creando qualcosa di bello. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà della creazione del corso quando facevamo il corso ma adesso alla fine non diciamo che siamo arrivati ma abbiamo cominciato un bel progetto e adesso è quello che volevamo. Quando siamo venuti qua il nostro sogno è lavorare e noi abbiamo fatto un po' di lavoro ma adesso stiamo gestendo le nostre proprie attività con un sogno per noi. Lo sappiamo bene però non per tutti è così a partire da un viaggio della speranza difficile da consigliare a qualcuno. Non consiglio nessuno di fare il viaggio pericoloso perché la pericolosità del mare e di tutto quello che puoi affrontare sulla strada quindi io direi di no di non prendere un rischio inutile ma sì non c'è altro via d'uscita secondo me il viaggio non vale la pena. Se qualcuno mi chiede se vale la pena io gli direi che non lo so soltanto lui deve desiderare quello che volevo fare. No veramente io non lo consiglio, pure i miei enemi non lo consiglio a prendere questa strada perché quello che ho visto sulle strada nel barcone dall'inizio in Libia è bruttissimo. Eccolo lo yacht di lusso su cui viaggiavano i migranti approdati questa mattina nel porto di Crotone partiti dalla Turchia probabilmente da Imzir. In 164 sono sbarcati sulle coste calabresi, tra loro 50 minori di cui 32 non accompagnati e 18 donne. Sono afghani, siriani, iracheni, egiziani, palestinesi. L'imbarcazione sarebbe stata avvistata ieri sera a circa 100 miglia a sud delle nostre coste. Stamattina due i pattugliatori partiti per il soccorso in mare. Si tratta di una moto vedetta della Guardia Costiera, la CP332, e il pattugliatore Bojadar della Repubblica Portoghese attivo sullo Ionio nell'ambito di Frontex. Secondo quanto si è appreso, l'imbarcazione ha percorso la stessa rotta del Caicco che il 26 febbraio scorso è naufragato a Steccato di Cutro, dove si sono registrate, lo ricordiamo, 94 vittime. Una tragedia. Il nuovo sbarco di oggi lo conferma che non fermerà le partenze e con l'arrivo della bella stagione in Calabria si teme possa scattare una vera e propria emergenza. E mentre in queste ore la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha ripreso l'esame e il voto degli emendamenti al decreto Cutro, in Commissione Ambiente si è svolta l'audizione informale dell'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera sulle attività maritme e portuali. In tante piazze del nostro paese si sono svolti i sit-in di protesta contro il decreto Cutro e sulla gestione dei flussi migratori. Anche a Crotone, in questi mesi al centro dell'attenzione dopo il tragico naufragio, in tanti hanno protestato davanti alla Prefettura perché dicono che il decreto prevede condizioni peggiorative della condizione giuridica degli stranieri che arrivano nel nostro paese. La protezione speciale abolita non serve a niente, soltanto fumo negli occhi, è uno spot. costruirà con la possibilità di commissariare i centri di accoglienza e riassegnarli senza bando di gara quello che noi abbiamo già vissuto con l'emergenza Nord Africa e c'è una serie di prenditori che utilizzeranno questi soldi per fare cassa e abbandonare i migranti e anche le popolazioni in cui risiedono quei centri ovviamente di accoglienza. Dopo la strage di Cutro, perché di strage si è trattata, ci aspettavamo ben altro dal nostro governo, questo non solo non è avvenuto ma si torna indietro, si costruiscono fantasmi e si butta nella impossibilità di essere cittadini reali da parte dei migranti, si costruiscono ulteriori clandestini che resteranno sul nostro territorio e saranno ovviamente nelle mani della criminalità organizzata o dei caporali che li utilizzeranno, continueranno a utilizzarli sfruttandoli sul lavoro nei campi. Associazioni, semplici cittadini e movimenti in piazza per chiedere al Parlamento di bocciare questo provvedimento e al Governo di modificare radicalmente gli interventi messi in atto. Un decreto che porta il nome di decreto Cutro, che in realtà non solo non aiuta il nostro territorio ma, come dire, peggiora ulteriormente le condizioni per i migranti, per le popolazioni locali e per le strutture che devono ovviamente stanno cercando di gestire in solitudine e con estrema difficoltà l'accoglienza nella nostra realtà. Questo è quello che abbiamo realizzato stamattina. Quando avremo la possibilità di incontrare il prefetto, ribadiremo questo e proveremo a costruire un tavolo, quantomeno di carattere provinciale, per affrontare tutte le nostre questioni in accordo ovviamente sempre con il tavolo asilo nazionale. Se c'è un momento ed un'età in cui i ragazzi si avvicinano alla droga molto spesso è il periodo scolastico. Siccome prevenire è meglio che curare, si è deciso di andare nelle scuole per far capire quelli che sono i rischi fisici, psicologici ed economici che il consumo di sostanze stupefacenti porta con sé. Io scelgo la vita è un portale che raccoglie tutte queste informazioni, manca un monito oltre che un consiglio nei confronti soprattutto dei giovani ma di tutti a seguire la strada maestra. Quindi bisogna informare, prevenire, non si tratta di reprimere in maniera ottusa il narcotraffico, quello sì. Gli usi vanno come dire in qualche modo prevenuti con l'informazione corretta e bisogna applicare più largamente quelle norme che consentono ai detenuti tossicodipendenti di scontare altrove con pene accessorie alternative nelle comunità il loro percorso che li può portare a un recupero, molto meglio che rimanendo nel carcere. Quindi chi combatte le droghe vuole anche essere più comprensivo nei confronti di chi soffre il problema. Chi invece alimenta il traffico deve andare incontro ai rigori diciamo molto decisi dello Stato. Sul palco dell'auditorium del liceo classico Telesio di Cosenza, scuola coinvolta nell'iniziativa, c'è stato anche il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha suggerito una sorta di terapia d'urto. Gli vantieri, sono stato un master qui a Cosenza, all'università, e pregavo i dirigenti scolastici, pregavo gli insegnanti a non fissarsi sul tema dell'educazione e legalità a questi progetti, queste cose, ma di portare questi ragazzi nelle comunità terapeutiche a parlare con i tossici e sentire dalla voce dei tossici se sono favorevoli o meno, d'accordo o meno sulla legalizzazione delle droghe. Andate a sentire chi sta soffrendo, andate a sentire chi da 3-4 anni chiuso in una comunità terapeutica per provare ad uscirne dalla schiavitù della droga. Il resto sono chiacchiere. Comunque oggi parleremo e affronteremo questi temi in modo approfondito. Febbraio 2022 fanno scalpore le proteste degli studenti dell'Istituto Valentini Majorano di Castro Libero per delle presunte moleste sessuali da parte di un docente nei confronti di alcune studentesse. Parte così un caso di rilevanza nazionale e i media di tutto il paese parlano di ciò che sarebbe accaduto nella scuola di Castro Libero. Scatto ovviamente l'inchiesta e il professore in questione viene sospeso al servizio e licenziato. Un anno dopo però, ovvero nel febbraio 2023, arriva il reintegro del docente Angelo Bastone su decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza. La decisione non piace al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale che decidono di ricorrere in appello. Ora però la Corte d'Appello di Catanzaro ha bocciato il ricorso del MIUR dando ragione al docente che ha diritto quindi al reintegro. Alla base della decisione dei giudici del lavoro ci sarebbero incongruenze. Il professore infatti era assente da scuola per malattia nel periodo in cui, secondo il racconto di una ragazza, sarebbe avvenuto l'incontro in cui ci sarebbero state le minacce. Gli atti intanto sono stati inviati alla procura e potrebbe scatare anche un'indagine per falsa testimonianza. A maggio poi partirà anche il processo penale. Se questa decisione avrà delle ripercussioni anche su quel procedimento lo scopriremo fra qualche settimana.